Anatomia, apparato escretore. In questo video parleremo degli ureteri, cioè i condotti che uniscono la pelvi renale alla vescica e che vengono attraversati dall'urena che poi andrà ad accumularsi appunto in vescica. Si tratta di organi tubulari, sono dei condotti molto lunghi e che per questo attraversano un gran numero di porzioni corporee e di conseguenza prendono rapporti con molte strutture dell'addome e della pelvi. Descrivere l'anatomia macroscopica dell'uretere non è affatto semplice. Si tratta di un viscere molto lungo che come abbiamo detto ha una quantità enorme di rapporti. Per questa ragione bisogna cominciare col dire che l'uretere è diviso in una porzione addominale e una porzione pelvica. In totale le due porzioni arrivano a una lunghezza complessiva di 29-30 cm di cui la maggior parte è costituita dalla porzione addominale. Nel complesso è un condotto che scende portandosi in basso e medialmente fino a raggiungere la vescica. Nel suo percorso non è rettilineo ma fa numerose curve. La prima è una curva leggermente flessa in avanti e medialmente. Nella seconda porzione forma una curva con vestità posterolaterale. Ma senza dubbio la più importante è quella che l'uretere compie al passaggio tra la sua porzione pelvica e quella addominale che prende il nome di flessura marginale ed avviene in concomitanza con l'incrocio con i vasi iliaci. Il lume dell'uretere è appiattito in senso anteroposteriore perché è schiacciato dalla grande quantità di organi che vi si presentano al davanti e presenta alcuni restringimenti detti fisiologici. Il primo è situato all'interfaccia con la pelvi a pochi centimetri dall'ilo renale ed è detto istmo superiore o colletto. Il secondo invece è a livello della flessura marginale e prende il nome di istmo inferiore o restringimento iliaco. Infine l'ultimo corrisponde al suo ingresso in vescica ed è detto restringimento vescicale o intramurale. Ma cominciamo a descrivere i rapporti dell'uretere dalla sua porzione addominale. Possiamo notare come molte siano le strutture che in questo punto si intersegano con quest'organo. Innanzitutto è un organo sottoperitoneale, quindi benché non faccia parte del cavo peritoneale la sua impronta si può notare sulla sua parete posteriore. Inoltre per tutta la sua porzione posteriore è in contatto nella sua parte addominale con il muscolo psoas sia a destra che a sinistra. Anteriormente è in alto e coperto dalla porzione discendente del duodeno a destra e dalla flessura duodeno digiunale a sinistra. Qui potete vedere in trasparenza questi rapporti. Viene incrociato poi da numerose strutture vascolari. Al davanti abbiamo la vena e l'arteria colica di destra, appunto sulla destra, e più in basso abbiamo l'arteria e la vena ileocoliche, entrambe tributare dei circoli delle mesenteriche. Ancora più in basso possiamo osservare l'incrocio con la parte terminale dell'arteria e della vena mesenterica superiore. Questo sulla destra, perché a sinistra i rapporti sono leggermente diversi. Innanzitutto al suo inizio è incrociata dall'arteria e dalla vena colica media, proprio nel suo punto di inizio. Poi il suo rapporto anteriore, per una gran quantità della sua estensione, è con la vena mesenterica inferiore. Più in basso prenderà rapporti con l'arteria e con la vena colica di sinistra, e più in basso ancora incontrerà le arterie e le vene sigmoidee. Un'altra serie di vasi importanti che prendono rapporti con entrambi gli ureteri questa volta sono i vasi genitali, le arterie e le vene gonadiche, testicolari nel maschio, ovariche nelle femmine. Questi due vasi scendono in basso e si portano lateralmente. Andranno quindi a incrociare l'uretere ed accompagnarlo per parte del suo decorso. Questo incontro avverrà poco al di sopra della flessura marginale, sia a destra e a sinistra. Per il resto, la parete anteriore dell'uretere è a contatto, come abbiamo detto, col peritoneo parietale, e attraverso questo viene in contatto con le anze del tenue e lateralmente, attraverso l'interposizione di una certa quantità di spazio, con il colon ascendente a destra e col colon discendente a sinistra. Medialmente, invece, il rapporto sarà, seppure indiretto, con la vena cava inferiore e con la orta, in quanto esiste una certa distanza tra le due strutture che è riempita dal tessuto adiposo retroperitoneale. Abbiamo accennato come la porzione addominale dell'uretere termini in corrispondenza dei vasiliaci, in particolare della biforcazione dei vasiliaci. La flessura marginale, che in questa sede si forma, rappresenta il passaggio alla parte pelvica. La porzione pelvica dell'uretere è in rapporto laterale con la parete stessa della piccola pelvi, che qui non è mostrata per permettere la visualizzazione del viscere stesso. Nella sua discesa incrocerà i vasi otturatori e l'arteria ombelicale, fino a raggiungere la vescica nella sua porzione terminale. Si parla, infatti, di una vera e propria porzione a parte, la porzione intravescicale, appunto. Nel maschio, un rapporto particolare è quello con il dotto deferente, che viene incrociato dall'uretere poco prima del suo sbocco nelle vescichette seminali. Nella femmina, invece, l'uretere decorre alla base del legamento largo e andrà ad incrociare il canale vaginale nella sua porzione più bassa, prima di entrare all'interno della vescica. Nella sua porzione più alta, invece, decorrerà lateralmente all'utero. Nella femmina, inoltre, avrà un rapporto molto stretto con l'ovaio, al punto che andrà a formare, nella sua prima porzione pelvica, la parete posteriore della fossetta ovarica. Infine, sia nel maschio che nella femmina, l'uretere ha un rapporto mediale con il retto, che è più stretto a sinistra che a destra. A sinistra, inoltre, prenderà rapporti anche con il colon iliopelvico, che in questa fase incrocia completamente il viscere. Infine, l'ultima porzione dell'uretere è quella intravescicale o intramurale. È lunga un centimetro, un centimetro e mezzo, e termina all'interno del lume vescicale. Non esiste una vera e propria valvola all'apertura dell'uretere. C'è semplicemente una ripiegatura della mucosa che prende il nome di valvola ureterica, anche se tecnicamente non è una valvola a tutti gli effetti. Le pieghe dei due sbocchi ureterici si uniscono tra di loro, formando la piega interureterica, che vedremo meglio quando parleremo della vescica. Per quanto riguarda la vascularizzazione e l'innervazione, gli ureteri sono nutriti delle arterie ureterali. La superiore viene dall'arteria renale ed è il suo ramo inferiore. Invece, l'arteria ureterale inferiore deriva dall'arteria iliaca interna. Per le vene abbiamo una situazione simile. La vena ureterale superiore è diretta verso la vena renale, mentre quella inferiore va verso l'iliaca interna. Infine, l'innervazione è a cura del plesso renale. La struttura microscopica dell'uretere ricorda in un certo senso quella della pelvi. Abbiamo come epitelio di rivestimento un urotelio, per le cui caratteristiche, rimando al video precedente, si tratta dello stesso identico tessuto. Poi abbiamo una lamina propria. Questa lamina propria è costituita nel suo strato più superficiale da fibre molto dense e da abbondanti vasi e nervi. Abbiamo poi uno strato più profondo della lamina propria, in cui il connettivo diventa più lasso, ma non prende una vera e propria identità, quindi non si può parlare di sottomucosa. Tuttavia, questo strato più lasso è importante, perché consente lo scivolamento dei piani superiori su quello muscolare. Infine, lo strato muscolare è molto caratteristico. Abbiamo uno strato longitudinale interno e uno circolare esterno, al contrario della maggior parte dei visceri. Infine, nella porzione terminale dell'uretere sarà presente un ultimo strato longitudinale esterno che nella porzione intramurale dell'uretere forma la cosiddetta guaina dell'uretere, che rappresenta quasi un meccanismo sfinteriale. La tonaca muscolare è molto importante per l'uretere in quanto permette i movimenti peristaltici che spostano l'urina. Infine, esiste un ultimo strato che è la tonaca avventizia, che è costituita di sottili fibre elastiche e che contiene alcuni vasi. In questa immagine possiamo osservare la struttura dell'uretere in microscopia ottica. Abbiamo lo strato interno che si ripiega che è costituito dall'urotelio. Si può osservare poi molto bene la struttura della lamina propria e la sua progressiva sfumatura verso la tonaca muscolare. Il tessuto adiposo che si vede attorno alla struttura rappresenta il tessuto adiposo retroperitoneale, in cui l'avventizia va a sfumarsi. Si può infine osservare, se si fa attenzione, il diverso orientamento dei fasci muscolari. I modelli anatomici 3D in questo video sono stati creati utilizzando Anatomy Learning. Vi lascio il link in descrizione, si tratta di un progetto gratuito. Se potete, sostenetelo. Il testo a cui facciamo riferimento invece per quanto riguarda le nozioni e il trattato di anatomia umana delle di Hermes.